Come sarebbe più opportuno se non ci fosse più nessuno se gli operai, i tuoi commercianti, gli impiegati, gli studenti non tornassero mai più spariti come fumo al vento, spariti come il novecento in una nube un po' rossastra, impressionati su una lastra, segni di un secolo che fu persi coscienza giaghernica, fui tratto in salvo da un'amica ripresi sensi a Stalingrado, pugnalato mio malgrado dai fratellastri di Salò in questo viaggio organizzato, col c'è in Bolivia sono andato poi dopo in Cile con Allende un comunista non s'arrende, liberammo anche Saigon a difendere la rivoluzione dal punto di vista politico con la unità popolare e difendere la rivoluzione con la produzione che affianzano il governo del pueblo per 40 anni come ostaggio, prigioniero di un villaggio che non riconosco più Piazza Fontana e poi Bologna in mezzo Brescia e la vergogna Anni di piombo nei polmoni, non si scrivevano canzoni, noi non ne cantammo più Ladri, pagliacci e ballerine poi ci sbatterono al gonfine ci crolla in testa pure un muro la tv sarà il futuro, guarda un futuro che non c'è No, non sarebbe più opportuno se non ci fosse più nessuno a chi affidiamo la memoria non ci fidiamo della storia Franco perché non ci sei più a chi affidiamo la chirurgia non ci sei più nessuno a chi affidiamo le caratteristiche a chi affidiamo a chi affidiamo la disposta a chi affidere la caratteristica a chi affidiamo